Come vuole dare questa cittadinanza onoraria all'arma? Significa sancire anche dal punto di vista formale, istituzionale, un rapporto che nasce sin dai tempi della fondazione dell'arma e prosegue nella quotidianità dell'impegno che vedono lavorare fianco a fianco le istituzioni, quelle civili e quelle militari, in particolare l'arma che ha questo ruolo di controllo e di garanzia della sicurezza delle nostre comunità è certamente una delle istituzioni con cui le amministrazioni cittadine si interfacciano maggiormente. Abbiamo pensato di farlo cadere nelle giornate dedicate alla celebrazione del centenario della nascita di Carlo Alberto della Chiesa, illustre cittadino saluzzese, Carlo Alberto della Chiesa è stato ovviamente ufficiale dei Carabinieri e quindi questi due momenti si rafforzano in questa programmazione che la città di Saluzzo ha voluto dedicare alla figura del generale, al suo impegno per la legalità e all'arma dei Carabinieri.